Allora noi adesso siamo sul centro della città e penso che la nostra direzione finale sarà verso Montà, Stato di Uganeo. Adesso siamo esattamente sul portello, zona universitaria. Ma ti allontani perché noi puntiamo più verso lo stadio Uganeo. Ma in linea di massima passiamo sopra l'autobottega e io... Sì. Non l'ho copiato. E ora in finale. E la stagia per San Costa. E la stagia per San Costa. E la stagia per San Costa di qua.